i fatti dell'ane pare quasi di aver dormito 8 mesi dove eravamo rimasti? ah si ne abbiamo fatto di strada ne è passato di tempo eppure siamo ancora più o meno lì e allora per riassumere un po tutto adesso voglio sapere se lei lascia o raddoppia cosa facciamo? raddoppiamo ripartenza in cadetteria a venezia con tante incognite e forse qualche timore pallino del gioco ai lagunari e contromisure dell'ane efficaci soprattutto nel secondo tempo ma pareggio che non arriva nemmeno allo scadere con cappelletti che spara alto a due passi dalla porta casca un po' a cadena chi se n'è la squadra ha reagito e poi noi abbiamo un buon meccanico e allora in sella stavolta verso il nostro menti arriva il pordenone o non scherzano questi puntano in alto ma che l'ane per i primi 20 minuti schiacciante ma poco finalizzante infatti alla seconda sgroppata dio gioca a biliardo e la mette nel sacco e tutti adesso asedura niente è vero perché l'uomo del monte ha detto quasi il suo destro a girare si schianta sul palo ma avanti sempre perché Mimmo e company lo sanno che partire con due sconfitte infatti la bicicletta di cappelletti funziona benissimo e ci riporta in corsa una corsa che non sarà per niente facile lo abbiamo visto tutti il tris che ci aspetta con monza salernitana e spal in una settimana questa serie b sarà durissima come scalare grappa ma Mimmo ci ha già mostrato come si fa porta l'ane grappa e